In certi aspetti clamoroso successo dell'Arezzo sul Catanzaro, tutto si è risolto nel giro di tre minuti. Al trentunesimo, su azione di contropiede, Ermini si faceva largo sulla sinistra e in mezza rovesciata Ugolotti batteva di Fusco. L'Arezzo sulle ali dell'entusiasmo continuava ad attaccare e cinque minuti dopo il bisse. Un bel pallone servito da Ugolotti per Muraro, il quale batteva il portiere in uscita con un raso terra di sinistro. Nella ripresa l'Arezzo si chiudeva in difesa temendo la reazione del Catanzaro. Il Catanzaro così ha premuto costantemente ma al sessantatreesimo un'altra azione di contropiede portava alla squadra retina la terza marcatura. Di Mauro lanciava Ermini il quale passava a Facchini che è entrato in area, si liberava di due avversari e sull'uscita del portiere metteva in rete con un pallonetto. 3-0 che rafforza per i padroni di casa le speranze.